Il programma Magnifica Toscana Grazie a tutti Grazie a tutti Le aziende vinicole, le fattorie e gli artisti di questa bellissima Toscana Crediamo che recuperare quei profumi e quei colori possa essere occasione di grande interesse Oggi ci troviamo all'Impruneta, precisamente in Piazza Bondelmonti Piazza che fu creata per accogliere il mercato di bestiame e per ospitare numerosi pellegrini Siamo davanti alla Basilica di Santa Maria, antica pieve dell'undicesimo secolo All'interno della Basilica è conservata la venerata immagine della Madonna Venerata perché in passato si ritiene che questa Madonna avesse realizzato numerosi miracoli Le attività principali dell'Impruneta sono l'antica arte della terracotta Dove si possono ancora oggi trovare molti fornacciai Uno tra questi è il nostro ospite di oggi, il maestro Mario Mariani Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Grazie a tutti Grazie a tutti